Ringrazio questo premio molto credito e lo voglio dedicare ai miei amici avvocati, a tutti i miei amici avvocati ma non soltanto agli amici ma anche a quelli che hanno lavorato con me e anche a quelli con quale mi sono confrontato e con quale mi sono scontrato anche in modo duro ma sempre nell'ambito di una dialettica processuale corretta. Grazie, grazie tanto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.